I militari della Compagnia di Tolentino hanno tratto in arresto due giovanissimi 19 anni della provincia. Tutto parte da questa estate quando in casa della signora Patrizia Francioni in via Monte Cavallo, in pieno centro storico, ci fu una violazione di domicilio con conseguente drogaparti. Da lì sono partite dunque le ricerche che hanno attestato un giro di spaccio anche di droghe sintetiche con il sequestro nella casa del giovane di Monte Cassiano di 110 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale atto a confezionamento più 7 telefoni cellulari. L'altro 19enne invece di Tolentino in un anno aveva guadagnato circa 10.000 euro. L'attività è stata coordinata dal procuratore Giovanni Giorgio e dal sostituto Enrico Riccioni e ci si è avvalsi delle telecamere di sorveglianza, del traffico telefonico, nonché soprattutto della collaborazione delle famiglie dei tanti acquirenti tutti giovani dei due arrestati.